Il Dottor Dolza Noc'ol cancellam, sovi com'on porzallae, parvi ghesù Soic pazzao, noc'ol ergo ta principal sul ne classica mercura dì po' Hai! Di stop, chusno da! Dibisci! Kime far? Tu mi lecciona gano? Dibisci! Enser monikora, cestà kocci, sir! Dibisci, sir! Hai! Hai! Come si valla! Che sei di amore di gaihtiasi! Gono gono, ne di gaih? Kime far? Tu mi prosto ruttun la leke, gorucho biakci gano! O no? Saat, amici goruse di gom! Saat, pori gaihti haiher kisui iaxe nai! Kormu ki? So, dvassar haihto nnotun ki? Yaki tu? Stand up! Hei me! Dabau! 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 Chari oare kara gara nai! Eki tu maare bandhu bhi? Kasa kasi! Bhalo basso! Oare kya shiya chai duja nama shoghe da hai gori bhi? Basso! Thik ya, sir! Kasa kasi! 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 Oh, 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 oh ...dia sempre... ...dia te ne ghi... ...Rot... ...sir? ...Mmm... ...Porichraman hai bhaalhi vat chè? ...Jee, sir... ...Locco raguhen? ...Jee... ...Kirè, quata proshna uttho dili? ...Prishti, sade koman dorstho, khali saa koman pori nene... ...Prishti... Il mio lavoro è molto bene. Voi? 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 Excuse me. Voi? 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 Voi is kif inside ľi ma pareto Nee... I don't like that to be fives Se purchou Non pure No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. F***** Fatima Nerf Quello Chiamo, come puoi fare? Ci siamo. C'è questo? Ci siamo, questa è una cosa sanità. Non ti ho, tu faccio bravi? No, non ti ho, non ti ho avuto. Non ti ho, non ti ho fatto. No, non ti ho fatto. grazie a tutti 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 grazie a tutti